Ciao, creatura. Io sono ecco a te splendenti, splendenti, benvenuti, bentornati nel regno di Cusai, E-S-M-A. Come hai letto dal titolo del video, mangerò semplicemente del pomelo, però andiamo a vedere cos'è il pomelo, perché sicuramente qualcuno di voi non ha idea di cosa stia per andare a mangiare. Allora, tra gli agrumi è uno dei meno noti, ma dei più antichi. Il pomelo è un frutto dal gusto interessante e dalle numerose proprietà nutritive. Allora, nella fantasia comune, quando si parla del pomelo, si potrebbe essere tentati di pensare a un nuovo strano frutto ottenuto incrociando il pomelo e la mela. Il che già così lascerebbe molti dubbi relativi alla consistenza o al sapore di questo assurdo incrocio. Invece, il pomelo è uno degli agrumi più antichi, molto simile per dimensioni a un cedro. Il pomelo è il sicuro antenato del più comune pompelmo e nasce dall'albero Gidrus maxima. Poi, trattandosi di un agrumi, è chiaro che il sapore del pomelo ricorda quello dei più noti agrumi in generale. Volendo fare dei paragoni, essi ha consistenza che sapore, molto simile a pompelmo, dal quale tuttavia si distingue per il grado di dolcezza paragonabile a quello del cedro. Il pomelo può essere riconsumato in diversi modi, sto leggendo ovviamente. Crudo al naturale, dopo aver accuratamente eliminato la buccia. Operazione tra l'altro estremamente semplificata dalla consistenza spugnosa della stessa, è vero? Spremuto per la preparazione di centrifugati, smoothies, sorbetti o preparati di varia natura. In salata, in aggiunta legumi o verdure, importante tra l'altro non solo per le proprietà organolettiche, ma anche per la capacità di migliorare l'assorbimento del ferro, desidratato come snack, spessa fame o come ingrediente per diverse ricette, per lo più dolci. Candido, in questo caso, è la buccia ad essere candida e utilizzata nella preparazione di gustose praline e di deliziosi prodotti da forno. Vabbè, valore nutrizionale non ci interessano, però dal punto di vista nutrizionale ciò che caratterizza questo frutto è la buona presenza di vitamina G. di potassio, ma soprattutto la presenza di piccole sostanze note come flavonoidi dotate di spiccate proprietà antiossidanti. Come la maggior parte degli agrumi, il pomelo è apprezzato come rimedio naturale contro raffreddori e malanni di stagione, grazie in particolare alla ricchezza di vitamina G. La presenza, seppur modesta, di fibre solubili renderebbe il pomelo un ottimo alleato per la salute intestinale, sia per l'azione lassativa che per quella prebiotica. Numerosi studi dimostrano come gli stessi flavonoidi, oltre alle suddette fibre, possono contribuire a mantenere in salute i grobi o da intestinale, proteggendolo dall'attacco di numerosi patogeni. Seppur non ancora clinicamente chiarite, queste attività potrebbero avere un impatto importante anche sul quadro metabolico, controllando l'assorbimento degli zuccheri e del colesterolo dietetico. Va ricordato tuttavia che alcuni principi attivi presenti nel pomelo, così come nel pompen, potrebbero interferire con la metabolizzazione di diversi farmaci. Pertanto ti raccomandiamo di consultare il medico, qualora assumessi con regolarità determinati farmaci. Non prendo alcun medicinale, quindi... Io adesso te l'ho letto, tanto per essere più precisa e non dire cavolate, però io non lo sapevo di tutte queste, cioè io non ho iniziato a mangiarlo, perché ho letto, wow, fa questo a quell'altro, perché comunque ogni frutto fa bene. Come ho conosciuto il pomelo, stavo in videochiamata con uno dei miei migliori amici e mi ha mostrato questo frutto che aveva acquistato dal supermercato ed è veramente un frutto grande, tipo grande così, più grande della mia faccia ed è tutto giallo, perlomeno quello che ho visto io sia da lui che dal supermercato, dal supermercato. E quando l'ho visto ho detto, wow, che cos'è? Fa il pomelo. Pomelo... Anch'io subito ho pensato a una fusione tra il pompelmo e la mela, ma poi adesso vado a leggere che non c'entra nulla, perfetto. E comunque... avevo letto anche però qui non lo diceva, quindi probabilmente forse era una fake news, o lì non lo so, non avevo letto che era tipo la grume più grande del mondo, potrebbe essere, perché è veramente molto grande. E... io l'ho acquistato a Lidl. quando me ne ha parlato questo mio amico, ciao Marco, grazie, mi ha detto, eh, lo mangio, mangio uno o due spicchia la sera, mi dura per un sacco di giorni, due o tre giorni, insomma, così io ho detto, ma che strano, e... è buono, mi piace, è un sapore che non so descrivere, è un po' dolce, quella, insomma, alla fine mi ha messo tanta curiosità e ho deciso di acquistarlo, perché comunque erano in offerta a Lidl in quel periodo, allora ho detto, vabbè dai, stanno in offerta, io quando trovo le cose in offerta che non ho mai assaggiato, le acquisto volentieri per provarle, non l'avessi mai fatto, perché adesso è diventato il mio frutto preferito dell'inverno, o meglio di questo periodo, mi è piaciuto davvero tanto, mi piace sia il gusto che la consistenza, e poi mi sembra di essere un grigetto, perché ha degli spicchi veramente molto grandi, adesso l'ultimo che ho acquistato non era tanto grande, e un po' mi dispiace, perché mi durerà molto meno, perché io lo mangio poi tipo per colazione, oppure come dolce, come pasto fine, a fine pasto, e questo già l'ho messo finito sbocciandolo, me lo sono mangiato a metà praticamente, ma è cadeno dovevi farlo, è bello anche rilassante, anche sbucciarlo, infatti la prossima volta, se resisto, di trovare un minuto per sbucciarlo in un video, perché è un suono molto rilassante, poi va sbucciato con le mani, la buccia è molto spessa, è spugnosa, proprio come diceva quell'articolo su internet, e non lo so, un bel suono mi piace, è rilassante anche sbucciarlo, anche se ci metto un bel po' a sbucciarlo, perché lo pulisco tutto, e così poi ce l'ho già pronto, solo per essere mangiato, io lo conservo in frigo, dentro un contenitore di quelli ermetici normali, eccolo qua, l'ho sempre trovato con la buccia gialla, e all'interno giallo, giallino, non l'ho trovato di altro, anche perché lo trovo sempre solo a Lidl, quindi per forza, con la tipologia lì, eccolo qua, buonissimo, c'è un profumo molto buono, e per esempio, questo, questo è uno spicchio, questo che è uno spicchio di pomelo, e il primo che avevo comprato, era ancora più grande, e aveva degli spicchi ancora più grandi, e mi sentivo un griggetto, perché mi immaginavo tipo, un griggetto con in mano un mandarino, che era, ecco, in quel senso, mi sa proprio da frutto esotico, di quelli che tipo, sì, io mi facevo i viaggi mentali, quando mangio le cose, in generale, mi sono immaginata tipo, in un'isola deserta, che mi mangiavo questo frutto gigante, non lo so, mi piaceva molto l'idea, in più la consistenza, lo so che poi ti verrà voglia, di mangiare un po' meno, dopo questo video, però, mi dispiace, o sono contenta per te, non lo so, comunque, cioè, è troppo, bello e buono, e anche il rumore, quando si mangia, ha un bel suono, io le aranze, non riesco mai a mangiarle così, spicchio per spicchio, perché, sono molto dure, però, se andiamo a togliere la pellicola, quella, la pelle, di ogni spicchio, non si riesce, e perché si, come si dice, esplode, no, è troppo succosa, invece questa, è fatta per essere sbucciata, in quel modo, quindi, di solito, le aranze, le consumo, sono in spremuta, la pelle, Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.